buongiorno cari amici benvenuti dal vostro andrea al matematico oggi vedremo come si calcola la rata in una rendita posticipata dobbiamo fare una premessa molto importante perché quando ci riferiamo una rendita posticipata ci riferiamo in questa situazione anche a una rendita immediata rata costante periodica temporanea e soprattutto calcolata all'interno del regime e interesse composto se avete difficoltà a comprendere questi termini andate a vedervi il video dedicato alla classificazione delle rendite e soprattutto anche il calcolo del valore attuale e del montante andiamo dunque a sviluppare un esempio pratico del calcolo di una rata quindi intendete disporre fra sette anni di un capitale pari a 10 mila euro quale rata anno apposticipata dovreste versare se operate il regime composto al tasso anno del 9 per cento dal punto di vista grafico la situazione possiamo vederla in questo modo quindi con i tempi da 0 a 7 che indicano i sette anni sotto rispettivamente l'uno il due fino al set andremo a identificare la rata che dovremo andare a calcolare e dovremo disporre alla fine di un montante quindi dopo il versamento della settima rata quindi all'anno 7 pari a 10 mila euro sapendo che operiamo nel regime composto con un tasso del 9 per cento ovvero di 0,09 la formula della rata possiamo andare a calcolarla come formula inversa rispetto alla formula del montante se vi ricordate come abbiamo visto nel video montante di una rendita posticipata per calcolare il montante di una rendita dobbiamo andare a moltiplicare la rata per il fattore capitalizzante della rendita che è s figurato n al tasso i quindi se vogliamo appunto dividiamo tutto per s figurato n al tasso i ci ricaviamo la nostra rata che resterà a destra che è uguale a sinistra leggeremo quindi il montante fratto appunto s figurato n al tasso i se andiamo quindi a sviluppare questo calcolo con la formula che abbiamo visto sempre nel video precedente andiamo a calcolarlo come il montante fratto lo sviluppo di s figurato n al tasso i ovvero linea di frazione al numeratore andremo a mettere 1 più il tasso elevato alla n meno 1 quindi 1 più i elevato alla n meno 1 dove n indica il numero di versamenti tutto fratto il tasso di interesse ecco molto importante in questa formula è che appunto il tasso di interesse sia correlato con la periodicità della rata qui siamo obbligati diciamo a rendere il tasso di interesse nella stessa periodicità della rata ora qui non ci sono grossi problemi perché appunto il tasso è annuo e la rata è annua quindi possiamo applicare questa formula così com'è quindi al numeratore mettiamo il montante ovvero pari a 10.000 euro al denominatore appunto s figurato 7 al tasso del 9 per cento che andremo a fare come al denominatore quindi 1 più il tasso ovvero 1 più il 9 per cento che leggeremo come 1,09 elevato al numero di rate quindi alla settima meno 1 tutto fratto il tasso di interesse ovvero 0,09 come risultato troveremo un montante cioè una rata da versare ogni anno quindi alla fine di ogni anno posticipata pari a 1.086 euro e 91 centesimi bene cari amici questo video è finito se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale per scoprire tutte le novità ma soprattutto per scoprire di più per quel che riguarda le rendite e anche le operazioni finanziarie ho creato questo video corso che si chiama appunto operazioni finanziarie e rendite vi lascerò un link di accesso con tutte le descrizioni e un link di accesso al sito con tutti i video corsi mi raccomando approfittatene perché prezzi più bassi di adesso non si sono mai visti attualmente siamo su questo corso a 9 euro e 99 quindi affrettatevi perché la promozione non durerà in eterno e andate quindi sul sito acquistato il corso noi ci vediamo sempre qui oppure spero sul video corso assieme lezione per lezione sempre col vostro andrea il matematico a parlare di matematica finanziaria a ciao 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 ciao